Buongiorno, io mi chiamo Janine Weichert e appunto lavoro nell'ADM dal 2017 e sono tedesca ma mi sono trasferita proprio per la volontà diciamo di veramente costruire DM che ha tanti valori qui in Italia, che è una bella sfida e mi occupo nello specifico della talent acquisition, quindi la selezione del personale e anche tutta la parte della formazione, quindi lo sviluppo del personale che per noi ha un valore molto alto e quindi ecco lo cerchiamo di veramente offrire a 360 gradi a tutte le persone che vogliono collaborare con noi. Noi abbiamo iniziato la collaborazione sui tirocini e inizialmente sinceramente ero un po' scettica perché ho pensato di essere piuttosto magari uno strumento di sei mesi, dopodiché ovviamente uno magari cerca piuttosto di andare sempre avanti per i vari vantaggi che ci possono essere economicamente. Però poi ho visto il vostro approccio etico che mi ha convinto diciamo e abbiamo iniziato con un progetto pilota di tre mesi di un tirocino a Milano e per esempio proprio questo è andato subito a buon fine. Quindi ecco questa è stata diciamo la prima esperienza poi appunto di tante, fino ad oggi abbiamo attivato più di 100 tirocini insieme e la nostra tassa di conversione poi in contratto è di 60-70% che direi è alto. Magari non sempre c'è una posizione aperta in quel momento, pian piano che abbiamo sempre più negozi ovviamente riusciamo sempre magari ad andare su un altro punto di vendita per far assumere la persona eccetera. Quindi per noi è diventato veramente uno strumento molto importante diciamo di talent management, quindi far crescere persone o giovani o comunque anche persone che magari vogliono fare un po' un nuovo orientamento sul mercato del lavoro e appunto da noi basta che uno vuole mettere tutta, noi siamo in forte espansione quindi la motivazione è tutto per noi.